Onnit, IT experience. Mi chiamo Nicola Comandini e sono un project manager della squadra Onnit. Il mio background non è propriamente informatico, nasco infatti come ingegnere ed il architetto. Dopo diversi anni di studi ed alcune esperienze lavorative in Italia, nel 2013 ho deciso di tentare la mia fortuna oltremare e di trasferirmi a Londra. Lì ho lavorato 8 anni in un'azienda che si occupa di consulenza per l'architettura. Partendo dalle basi ho imparato il lavoro in un contesto internazionale, gestendo progetti via via sempre più grandi e guadagnandomi la fiducia dell'azienda, fino a diventare nel 2018 partner associato. A quel punto però è scattato qualcosa. Avevo bisogno di uscire dalla mia comfort zone e di rimettermi in gioco, di imparare cose nuove. Mi sono quindi iscritto ad un Master in Business Administration a Bologna, mentre continuavo a vivere e lavorare a Londra. Durante questa esperienza ho incontrato due CEO di Onnit, tramite i quali sono entrato a contatto con lo spirito aziendale e i valori che Onnit abbraccia. Questo incontro mi ha inizialmente incuriosito e successivamente spinto ad avvicinarmi sempre di più a questa realtà. Dopo una serie di colloqui, a marzo 2021, è iniziata la mia avventura qui. Nel quotidiano mi occupo di coordinare e supportare le risorse, sia interne che esterne, al fine della buona riuscita dei progetti. Le relazioni sono l'asset principale del mio lavoro e devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito da tutte quelle persone che ho incontrato qui in Onnit. Professionisti tutti diversi, con esperienze e caratteri differenti, ma tutti accomunati dallo stesso entusiasmo e spirito di squadra, che era poi la cosa che mi aveva colpito durante l'NBA. È stato bello non sentirsi soffocare da una realtà ingessata, ma di avere fin da subito fiducia e supporto da parte di Onnit nel riportare l'esperienza maturata all'estero sul territorio, vedendola come valore aggiunto. Questo non è per nulla scontato ed è nota una mentalità aziendale aperta e con la visione del futuro. Quindi, che dire, come direbbero a Londra, onwards and upwards. Grazie.